Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo, siamo qui con Rocket League, ho cambiato macchina, questa è la versione Luigi praticamente Spariamoci il competitive, dai, spariamoci un'altra partitella, altre due partitelle in competitive Nella speranza di vincere, ci proviamo, ci proviamo E vediamo, vediamo come va, il video scorso non è andato, malissimo, una vinta, una persa, quella persa ai supplementari proprio per poco Peccato, ma insomma, si vince e si perde, quindi assolutamente Ok, siamo con... Son Goku, Son Goku Dragon Ball Z, Son Goku Dragon Ball Z 88 Attenzione, attenzione, ma siamo contro Son Goku, no ma è contro di me E allora perdo, perché c'è che siamo contro Son Goku, ci lancia una Genkidama, una Kamehameha, l'abbiamo perso Allora... Veramente? Veramente? Ma che cazzo? No! Ok Ok, va bene Accetto, accetto la cosa, un po' mi stranisce, ma accetto Allora, andiamo con la macchinetta qua di Luigi Di Luigi, guardate che... Questa è la skin di Luigi, questa è la skin di Luigi È la skin di Luigi official, proprio, mi ha contratto un intento Mi ha detto, guarda, vedete la skin official Proprio, io ho detto, va bene Vedete la skin... Questa è proprio official, eh, guarda Proprio Luigi Allora, vediamo, io vorrei che la palla fosse un pelo più dritta Perché io con le palle sto... Oh no Un po'... Viulenza Viulenza qua Ehi, ehi, non vedo un... No! No, un po' storta Goku, guarda, meglio che ti dai a... a freezer Perché... Guarda, vai! Dai, cazzo Però intanto la colpisco, eh Intanto la colpisco e... è così che entra, vero? Vero? No? No? Eh... Scusate, siamo... Io ero a prendere il turbo Che sono stupido in culo Ma... Voi che scusate... Che scusante avete? Ok Non ho ben capito Ma... Va bene Vabbè, siamo comunque sul pareggio Quindi ci sta... Circa... Sì, dai, ci sta, ci sta Un bel pareggino Che è più bello... La rimonta adesso La rimonta... Vai! L'ho colpita! Incredibile! Eh... Ho fatto un assist Proprio... Mua! Così! Alla Luigi! Alla Luigi! Eh, era qua Era qua Perfetto! Direi che... Siamo... Messi... Bene! Muccio bene! Aia, aiuto! Andiamo a prendere il turbo, ovviamente Perfetto Perfetto Ouch! Ehi! Oh! Oh! Che ca... Ehi! Ragazzi! Fate... Eh, che cazzo Ma fanculo! Dov'è la palla qua? Dov'è la palla? Ah, bravo! Vabbè, c'ero anch'io in porta Eravamo tipo in quattro in porta Quindi Insomma Allora, attenzione Vai, 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 vai! Merda, no! L'ho presa di... Di ruota Ma l'ho presa... Stortissima Vai! Cazzo! Niente Assolutamente niente Assolutamente niente No! No! Puttana! Come l'ho presa? Dove l'ho presa soprattutto? Storta? Vai, vai, via Guardate allontanarla In primis Allora Vediamo Vediamo Vai, vai, vai Ma... Eh, ma perché sei saltato? C'ero io! Ah, cazzo C'ero io Vai! Mia! Mia! Eh... No, dai! No! Volevo che dicessero che avevo segnato Da... Eh, vabbè Beh, diciamo che... Quasi L'ho quasi toccata Quasi No, vabbè, vabbè, vabbè Accettiamo Accettiamo che non serve un cazzo In questa squadra In questo gioco Accettiamo la realtà dei fatti Fai schifo Rocket League Allora Qua 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 Attenzione Ehi Ehi Attenzione No! No, ma dove? E dove fai? Mi fai andare Dove mi fai andare? Vai via Vai via Vai via E là E là E là Vai No, eh, vabbè Cioè Si è buttato ragazzi Son Goku Era una Kamehameha Cioè, guardate È partito Kamehameha Guardate qua Eccolo Ha fatto una Kamehameha gigantesca Eh, beh Raga, che volete dire? Siamo contro Son Goku Ve l'avevo detto che si perdeva O che era sofferta Perché Son Goku è Son Goku Cioè Poco da fare Allora E rimango un attimo Nelle retrovie Eh, perché Non vorrei Insomma Va bene Giocarsela Ma Stare anche un po' safe Per dire Per dire Attenzione No Dov'è la palla? Eccola qua Dov'è la palla? Madonna Complimenti Filippo Complimenti Vai Via Attenzione L'ho mandata via L'ho mandata via Perché Chi non la manda via Non è figlio di Maria Non è figlio di Gesù Quando muore va laggiù Ovviamente Non sto dicendo cose a caso Ma va bene Va benissimo Vai Merda Eh, un attimo E mi serve un po' di Turba Turba Eccolo qua Dai 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 Ficcala dentro Ficcala dentro E niente No? Sì? Che è andata? È andata di là Un attimo Un attimo Un attimo Buono 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 Porca Però ho demolito Lui Lui Vai Grande Come Eh, ma occhio a Son Goku Quando arriva Son Goku Sono cazzi, eh Sono cazzi Sono cazzi Sono cazzi Sono cazzi Vai No Merda No E che cazzo Eh, mamma mia Ma quanta violenza qua Per una palla Attenzione 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 No Beh, il tiro in porta c'era Però è che Mi erano parato Allora Attenzione No 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 Attenzione Vai 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 Porca vacca Quello da Son Goku Dove è sbucato Ha fatto il teletrasporto O come si chiamava nei giochi di Budokai La trasmissione istantanea Ha fatto quella E si è messo davanti Alla porta Prima non c'era Madonna Li ho fatti volare Mi va benissimo Mi va benissimo Farli volare via Va benissimo Va Benissimo Cazzo Cazzo E dai però E dai E dai 30 secondi Quanto me la fai soffrire sta partita Son Goku Quanto Quanto è sofferta Ah Bella Bella No Madonna L'ho previsto che volava L'ho previsto e sono saltato Dai Allora 14 Adesso Ma basterebbe Basterebbe qua Mettersi No 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 cazzo Vai via Vai via palla Vai via Vai via da me Via da me No Uno Vai Mamma mia Mamma mia Mamma mia Eh La skin di Luigi Porta bene Io ho fatto regista Io ho fatto Io ho regista Eh Raga Io ho regista Eh Ora qua Ah bene Eh Che dire ragazzi Vediamo un'altra partita Sì Assolutamente Sì Vediamo Cosa ci Cosa otteniamo Sempre in competitive Allora Dunque Eh 3 contro 3 Assolutamente Non siamo ancora classificati Ma ci stiamo classificando Vi lo dico subito 2 contro 2 1 contro 1 Mmm Penso che la farò mai C'è proprio Comunque Siamo con Steven Brissett Wild Reflex Big Room Quindi la grande stanza Low Five E Tele Vabbè Loro Io ho il nome più normale di tutti Vabbè Vabbè Che poi mi Presumo che siano Giocatori della Play Perché hanno l'underscore Perché sulla Play Non c'è lo spazio Ma c'è l'underscore Mamma mia Ma c'è l'underscore E quindi 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 niente E quindi un cazzo E quindi un cazzo Un po' di turbo Un po' tanto turbo Dai No Ah un attimo va Girati Perché sono un po' male però eh Però Oh Eh di culo Di culo L'ho toccata di culo Di culo l'ho toccata Questa invece Raga È la skin come si vede Super Mario Questa è la skin Super Mario Ovviamente skin ufficiale In Nintendo Nintendo mi ha detto Guarda Pella notte Ma certo Faccio la vostra skin Skin ufficiale Ovviamente Se volete la skin Dovete digitare Il mio codice Sconto Carciofo fritto E avrete Ovviamente La La skin E intanto abbiamo fatto un gol E intanto abbiamo fatto un gol Perfetto E Vabbè Ma quindi È un altro gol No no È un gol Un gol notro Io intanto ero lì Peggio Ok Allora Vediamo di fare Anche il secondo No Super Mario Super Mario Dai No Mi rubano i turbi I turbi Monelli Avrei Eh Questa è Perché non Perché non va la pacca E niente Io Servo come il carciofo A colazione Quindi a nulla Praticamente E infatti Non c'è Gioco Cioè Non ci sto provando Ma Ma non servo a nulla Cazzarola Allora Vamonos Va Io ho fatto indietro Eh Infatti Infatti Madonna mia Così Cioè Nessuno dei miei È andato avanti È detto Stiamo tutti in fondo Perché abbiamo capito Infatti Erano tutti in fondo E niente Nel modo più stupido Abbiamo Subito il gol Mamma mia Allora Ma Perché nessuno avanza più Scusate Eh E che cazzo Vi vergognate Vi vergognate Non ho capito Io Giochiamo aggressivi Aggressive Vi voglio aggressivi Vi voglio cattivi Vi voglio Dai Dai Ecco Ui No 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 Merda Dov'è 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 la palla Dov'è No 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 Io non so parare Dai Cazzo Come Sono No No Adesso diranno Guarda questo deficiente Che non ce l'ha fatta A te che stupido E infatti E infatti E infatti è stato stupido Eh no Io In In porta Non ci devo stare Io in porta Faccio schifo E allora No Io Devo stare in attacco In attacco Non davanti alla porta Perché prendo banane E basta Per esempio Se loro la La livano La livano Dai vai vai No Cazzo Cazzarola Mi serve Ouch Mi serve il Il turbo Mi serve Si in effetti Anche Colpirsi tra compagni Non è che sia proprio Il massimo Ma Insomma Vai 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 Muori Cazzo Mi serve il turbo Attenzione Vai Ok La palla è ancora Lì in fondo Il che Il che vuol dire Che il dato Non c'entrerà mai Il che vuol dire Che Ohi Oh Oh Vai via Ehi Attenzione Oh Attenzione Prendi la palla Ref Che cazzo Ok grazie della spinta Non mi serviva Non mi serviva un Kaiser No Aiuto Insomma Prendiamo Lui Dove devo andare Dove devo andare Dov'è Dove devo andare No 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 Madonna L'ho colpita L'ho colpita L'ho colpita Almeno l'ho colpita Dai Ma porca Ehi Io il giorno Che saprò colpire Una palla In volo Sarà sempre ora Ma non è oggi Non è oggi E vabbè però Insomma Mi rubate anche la pallina Allora Attenzione Attenzione Ma porca paletta E che cazzo Dai Dov'è Là Eh Questa partita È risicatissima Ma veramente Tanto Perché Non riusciamo a Non riusciamo Perché sono stupido Io probabilmente Lo sono in due Contro tre Però Allora Me la fai Quanto meno Ah Eh vabbè Però io ci metto Così a fare ste robe Basta far figuracce Ne giochi una bene E sette male Perché Perché Per qual motivo Aia Attenzione Ok Adesso teniamo un attimo Lo sguardo Sulla Sulla palla Perché io vorrei Eh tipo adesso Tipo adesso Eh vabbè Ok l'idea c'era Perché mi ha dato anche Tiro in porta L'idea è Era Però Non c'è stato La realizzazione è pessima Allora Un attimo Un attimo Una No Grande Scusate ma Parlare Parlare Mi tenco un po' di Tuss Vai No No Si 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 Mamma mia Eh là Eh Avete visto Dopo quattro minuti e mezzo Quattro minuti e mezzo Eh E insomma Eh Eh E allora Eh E allora Niente Siamo comunque In vantaggio Si ok Ma Non è finita Ne facessimo un altro Sentirei più tranquillo In realtà E potrei dichiararla già chiusa Ne facessimo tipo un altro Cosa che non penso arriverà subito Ma Vediamo eh Vediamo Tipo 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 Abbiamo vinto Abbiamo vinto Perché non possono recuperarla Dovrebbero tenerla Penso In volo Tipo Sempre Eh no Ovviamente non è possibile Ok Direi che questa si chiude Molto Molto meglio Come Come partita Come Anche come Come video Positivissimo Abbiamo fatto anche un bel po' di XP E Che dire Abbiamo vinto sfondo giocatore Raro Ok Progetto dolci sogni Ok Dai abbiamo fatto un gol Un tiro Dai insomma Raga Non mi lamento Il video di oggi Termina qui Spero che vi sia piaciuto Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo al prossimo video Di Rocket League Ciao ragazzi